live social buonasera carissimi amici di live social e bentrovati qui come sempre sulle frequenze di radio veronica one solo il meglio questa sera per il nostro salotto radiofonico d'eccellenza e qui con noi stefano trentini il titolare del ristorante al 33 ciao e benvenuto buonasera a tutti gli ascoltatori e grazie per l'invito iniziamo subito di e nostri ascoltatori che vi trovate a moretta quindi parliamo anche di un territorio fatto veramente di eccellenze enogastronomiche sì moretta è un paese situato al termine dalla provincia granda quindi non è molto distante dalle langhe allo stesso tempo non è distante neanche dagli rossi centri come torino fortunatamente abbiamo la possibilità di cercare le nostre materie prime per le quali abbiamo speso molto molto tempo una ricerca molto approfondita a partire dai vini fino ad arrivare ai formaggi e alla carne che il territorio piemontese di questo ne è ricco sotto tutti gli aspetti quindi personalmente abbiamo cercato quello che poteva essere quello di cui avevamo bisogno quindi un prodotto eccellente la cucina che tipo di cucina offrite nonostante sia un ristorante pizzeria abbiamo deciso di dividere i due menù in maniera sostanziale ovvero la pizzeria produce sia le 20 pizze canoniche da pizzeria più altre cosiddette speciali perché vengono farcite con prodotti di op igp o comunque legati a un territorio mentre la cucina un menù prettamente di cinque elementi per ogni portata quindi cinque antipasti cinque primi cinque secondi cinque dolci gestiti in maniera molto nel dettaglio diciamo certo è molto simile a un a un menù di un ristorante vero e proprio certo io ti chiederei magari qualche esempio magari quelli che sono anche i vostri cavalli di ma guarda noi abbiamo deciso di inserire sempre due piatti di cucina piemontese due piatti di cucina regionale a livello italiano più un piatto di cucina creativa per esempio noi adesso stiamo effettuando il cambio menù quindi fino adesso nel periodo autunnale perché oramai siamo all'inizio di dicembre avevamo un piatto denominato l'autunno leggendo questo nome nessuno può capire cosa da cosa sia composto ma gli elementi principali gli ingredienti principali erano zucca delica funghi porcini e castagne appunto dicevi anche la scelta dei vini è sicuramente importante da accostare a questi esatto siccome il lockdown precedente quello del primaverile ci ha dato molto tempo da spendere abbiamo avuto la possibilità di cercare sul territorio regionale e non solo anche nazionale e addirittura oltre altri quindi anche francese dei vini che potessero essere poi abbinati in maniera perfetta quello che noi prepariamo a questo punto comunichiamo i nostri ascoltatori come e dove trovare appunto per andare a provare questi prodotti d'eccellenza il telefono è 331 20 33 999 li trovate in via bononi 3 a moretta appunto come dicevamo prima il sito è www.al33.it 33 ovviamente il numero su facebook al 33 su instagram al 33 underscore e potete anche scrivere una mail a ristorante punto al 33 chioccio a gmail punto com tutto giusto perfetto perfetto allora noi ti ringraziamo tantissimo per essere venuto qua grazie a voi e mi raccomando che amici ascoltatori rimanete sintonizzati perché fra poco ritorniamo live social